allora non sono ancora arrivata alla cima ma siamo già sulle cime della montagna vedete da giù c'è tutto il parco del montaviche con i laghi e dall'altra parte c'è il rifugio barbustella dall'altra parte qui sono su un tratto esposto e adesso Flavio sta arrivando alla cima con i cani e io mi metto a seguirlo là c'è il gruppo del monte rosa che però è nascosto dalle montagne